Perchè scrivo? Scrivo perché avevo gambe troppo sottili, perché volevo dipingere, perché mia madre voleva sposare un pianista, perché mia nonna aveva ai lobby dei turchesi come i suoi occhi, perché non volevo fare la maestra, perché in auto cantavo a voce altissima, perché mi piacevano i filini in brodo di pollo, perché mi ammalavo troppe volte. Perché leggevo Antonio Krueger nei mattini a letto, perché Angelica aveva occhi verdi, perché c'era il biancospino nella strada di Swan, perché compravo abiti scollati sul seno tondo, perché avevo paura di tutto e non sapevo nuotare, perché il mio unico amico era il gatto, folle, perché mio padre cercava alberi nelle strade per pregare da solo, Perché a scuola prendevo voti bassi, perché ascoltavo in drigo, perché andavo al cinema quando pioveva, perché volevo solo leggere, perché volevo essere amata, amata davvero. Grazie per la visione! Grazie per la visione!